E oggi sono qui per raccontare l'esperienza del Grattacielo Intera San Paolo di Torino. Grattacielo progettato da Renzo Piano, secondo i più avanzati principi di sostenibilità ambientale. Un'opera molto interessante da diversi punti di vista, io direi da qualsiasi punto di vista lo si voglia analizzare, ma soprattutto per due elementi fondamentali. Uno, una composizione architettonica molto originale, con una fortissima apertura ad un pubblico esterno, cosa abbastanza inusuale per una sede finanziaria, e poi una grandissima attenzione a tutti gli aspetti di sostenibilità ambientale e risparmio energetico. L'edificio è davvero un prototipo abbastanza unico in questo momento. A dimostrazione di questo ci piace sempre ricordare l'ottenimento del certificato LID a livello platinum, risultato che nel 2015 era praticamente l'unico in Europa, elemento abbastanza rilevante.